Ciao ragazzi, oggi andiamo a raffinare quello che avete visto qualche domenica fa, cioè il kit luci sotto scocca. Perché? Perché al momento, sai, sono lì, devo andare, metto su con i fili alla batteria, tac, si accende. Ma volevo creare un circuito che almeno avesse, non so, una sorta di telecomandino per avviarlo, no? Giusto anche da macchina spenta, se voglio farlo vedere, clac, telecomandino e si accende. Quindi ho comprato questi oggetti qua. Come vedete, c'è questa centralina qui, che ha quattro relais, quindi quattro canali. Al momento io la stavo testando, come vedete ho fatto i quattro ponti che portano il positivo. Vabbè, aspetta, partiamo da capo. Per testarla ho usato la batteria al quale ho attaccato il rosso e il negativo, me li sono portati qua su. Ho attaccato direttamente qua nel secondo ed il negativo che arriva dalla batteria nel primo, ok? Questa qua è la centralina ed il kit e andiamo a collegarlo al negativo direttamente alla batteria. E il positivo poi sul canale di uno dei quattro canali che abbiamo. Andando a mettere positivo e negativo nei primi due, andiamo poi a ponticellare saltando sempre uno. Come vedete l'uno lo salto e vado a mettere positivo nel due. Sono ovviamente ogni canale a tre viti, ok? Adesso non so in maniera tecnica dirvi veramente quale sia ognuno di esso il nome, il termine e l'utilizzo. Ma vi posso assicurare che il circuito così funziona perfettamente. Quindi dal positivo a ponticello al centro delle tre vie, diciamo così, di ogni singolo circuito. Quindi andrò nel 2, andrò nel 5, andrò nell'8 e nell'11. In questo caso noi, quando vogliamo andare ad utilizzare uno dei vari circuiti, andremo ad inserire nel 3 oppure nel 6, quindi quello subito dopo, oppure nel 9 oppure nel 12, il nostro, diciamo, positivo del nostro kit, del nostro oggetto che vogliamo andare ad illuminare. In questo caso lo siamo andati a mettere nel 9, quindi ho scelto di utilizzare il terzo canale, il terzo circuito, che sarà il C. Quindi io poi premendo C si accenderà il circuito. Al momento l'ho staccato dalla batteria, vi faccio vedere un attimo il funzionamento. Oh ragazzi, ce l'ho fatta finalmente, vedete, questo è il telecomandino. Io schiaccio A e vanno i led sotto scocco. Che bomba è! Subito, vuoi spegnere? Tac! La macchina è spenta tra l'altro al momento. Vedete? Io ho creato questa centralina qua, attaccandomi alla batteria. Al momento esclude. Quando io vado a cliccare, lui apre il circuito e mi accende le luci sotto. E tenete conto che qua posso mettere anche più canali, che insomma è una figata raga, è una figata. Qua come potete vedere adesso è tutto pulito, sembra quasi non ci sia niente. Abbiamo preso l'alimentazione là, la centralina che gestisce i vari canali l'abbiamo messa qui dentro. E invece qua sotto, impermeabilizzata, abbiamo la centralina del kit che fa le luci sotto scocca ragazzi. Che robetta eh! Guardate qua, che bomba! Bellissima! 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 Grazie a tutti.